Un saluto a tutti i nostri soci, a tutti i nostri amici e simpatizzanti. Parliamo ovviamente dell'Associazione Bellonesi nel Mondo. Oggi faremo una breve panoramica del numero 4 aprile 2020 della rivista Bellonesi nel Mondo che abbiamo appena spedito a tutti i nostri soci. Diamo quindi subito uno sguardo al contenuto del numero 4 del mese di aprile di Bellonesi nel Mondo. Partiamo ovviamente immediatamente dalla copertina. La copertina è dedicata al coronavirus ma anche a chi in questo momento ci sta davvero supportando. Il titolo è insieme, ce la faremo in questa fotografia. Vediamo appunto il personale medico, i volontari della protezione civile, le forze dell'ordine, tutti appunto assieme per fronteggiare l'emergenza coronavirus e ovviamente anche per difenderci. Passiamo adesso all'editoriale a firma del direttore responsabile Dino Britta. Di fronte all'attacco del coronavirus, l'Italietta se destra giù il cappello. Siamo in guerra, come su tutte le guerre gli eventi si susseguono rapidi e imprevedibili e quando leggerete questo giornale molte cose saranno cambiate in pochissimi giorni. Difficile pertanto individuare dei punti fermi, ovvero delle realtà che non hanno subito mutamenti durante questo pesante periodo bellico. Siamo in guerra, continua a scrivere il direttore responsabile di Bellonesi nel Mondo, Dino Britta, contro un nemico subdolo e invisibile, però ovviamente da bravi italiani si sono dovute inasprire le disposizioni restrittive aggiungendo controlli severi e sanzioni sempre più pesanti. È stata l'ultima dimostrazione di un certo infantilismo che è sempre serpeggiato nelle nostre contrade. Non tutto il male però viene per nuocere, infatti salvo qualche frangia di criminale responsabilità, la stragrande maggioranza degli italiani ha tirato fuori dal suo DNA una inaspettata cifra di dignità. Infatti a chi nel mondo ci ha sempre guardato con sorrisini ironici, a chi continuava a bollarci italiani tutta pizza mandolino a sole mio, a chi pensa ad uno stivale popolato da provincialotti per di tempo assorbendo la lezione della Cina abbiamo sbattuto in faccia niente meno che un servizio sanitario nazionale di indiscutibile eccellenza. E continua ovviamente l'articolo di fondo a firma di Dino Britta. La foto del mese invece ci è stata inviata da Cristian Mariotti direttamente da Los Angeles ed è uno sguardo della città appunto di Los Angeles fatta dal nostro bellunese che vuole salutare Cortina d'Ampezzo e tutta la provincia di Belluno. Bellunoradici.net è lo spazio dedicato ai membri della community di Bellunoradici.net il social network dell'associazione bellunesi nel mondo. Quest'anno dedica spazio a Martina Crepaz e migrare sinonimo di crescita scoperta e conoscimento. passiamo ovviamente all'approfondimento del Covid-19. In questo numero abbiamo pubblicato la cronologia del virus dal 30 gennaio fino alla fine del mese di marzo, esattamente al 28 di marzo i giorni più salienti che hanno colpito l'Italia, la provincia di Belluno e tutto il mondo. E a proposito di coronavirus, spazio ai bellunesi, come stanno vivendo l'emergenza, i nostri bellunesi in giro per il mondo e quindi è un viaggio che facciamo tra l'America, l'Europa e la Cina e l'Africa. Quindi un approfondimento da leggere completamente. Ce la faremo, l'articolo affirma di Maurizio Busatta, l'economia anche bellunese dopo il coronavirus. Il turismo malato da coronavirus, un approfondimento anche in merito alla situazione che sta vivendo e che sta subendo il settore turistico in provincia di Belluno, ma anche tanta solidarietà. Il fondo welfare bellunese si attiva con una raccolta fondi ed ecco qui la piacevole sorpresa che troverete in questa edizione del mensile bellunesi nel mondo, ovvero il saluto e la benedizione di Papa Francesco a tutti gli amici dell'Associazione Bellunese nel mondo e a tutti i suoi associati. Vi saluto e vi benedico, viviamo un momento difficile, abbiamo bisogno di rimanere uniti gli uni agli altri, in contatto anche se lontani, collegati anche se impossibilitati a incontrarci. E la preghiera è un richiamo anche ai pensieri del nostro Papa Bellunese, ovvero di Papa Luciani. Quindi davvero un regalo che Papa Francesco ha voluto dare a tutti i soci, a tutti i bellunesi nel mondo e che troverete in questa edizione del mensile bellunesi nel mondo. Spazio anche ai messaggi istituzionali, il Veneto non si abbatte, questo è il pensiero del Presidente della Regione Luca Zaia, ovviamente il pensiero anche del nostro Presidente Oscar De Bona, il pensiero del Vescovo della Diocesi di Belluno-Feltre, Renato Marangoni. Solidarietà di Belluno è quanto pensa invece il Presidente della provincia Roberto Padrine. Spazio anche al mondo imprenditoriale bellunese, come sta fronteggiando l'emergenza coronavirus. Il titolo è una sfida epocale, questo è il messaggio della Presidente di Confindustria Belluno-Dolomiti, Loren Berton. E anche il mondo del commercio si fa sentire con il Presidente Pozza che racconta, appunto lancia un messaggio e un appello di speranza anche attraverso la solidarietà e il supporto delle comunità estere. Scorriamo veloci le pagine dei bellunesi nel mondo, solidarietà anche dai nostri bellunesi. L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha sostenuto e continua a sostenere una raccolta fondi che ha già superato la cifra di 30 mila euro, una raccolta fondi aperta da tre bellunesi, Daniela Gorza, Tommaso Calabro e Mario Partelli. Tutte le informazioni le trovate direttamente su questo numero di bellunesi nel mondo. Corona Map è bellunese l'app che traccia il contagio, lettere in redazione sono sempre numerose, le lettere che i nostri soci ci inviano. Gioachino Bratti invece cura la consueta rubrica Libri e documenti ricevuti. E' interessante anche l'articolo pubblicato e scritto da Paolo Doglioni all'interno della rubrica Briciole di storia, ovvero epidemia, pandemie, storie vecchie e nuove. Un articolo da leggere davvero. Foto e documenti dell'immigrazione ma anche la belluno di un tempo, grazie alle cartoline del nostro vicepresidente Rino Budel. Viaggio nella spiritualità, come sempre presente la rubrica firma del diacono Francesco D'Alfonso. Ovviamente un messaggio di riflessione ai tempi pasquali che stiamo per vivere in un momento completamente diverso, sempre come conseguenza del coronavirus. Presente la rubrica di mese in mese, un viaggio nelle vallate bellunesi e in merito alle attività che si sono succedute nei singoli comuni. La rubrica bellunesi di cui si parla invece vuole ricordare Renato Rossi, una vita tra occhi e successi professionali, e anche la figura di Enemesio Angelo Lazzaris. E' mancato il vescovo brasiliano di origini zoldane. Sesse radici, tutti i tormen all'appello a Barrao de Categipe. Il 15 e 16 febbraio si sono incontrati tutti i tormen del mondo. Messaggio anche per quanto riguarda l'Assemblea Ordinaria ABM in programma nella giornata di sabato 16 maggio 2020. Ancora per quanto riguarda l'associazionismo Covid-19. MIM, il virus non ferma il nostro museo che apre virtualmente. Un approfondimento anche a una nuova collaborazione tra Confindustria e l'associazione Amici di Rio Giordao. La rubrica bellunesi nel mondo dello sport, a firma di Marco Dinka, dedica spazio a una scheggia di precocità. Parliamo di Gabriel De Toffoli, che è campione italiano nel tiro con l'arco. Cultura, lettere dall'Atlante, dalla Valle a Gordina alle miniere dell'Algeria. Un libro davvero interessante che vi suggeriamo di leggere. E per quanto riguarda la curiosità, il pastin del Tita Pancera di Dont di Zoldo. Articolo a firma di Silvana Molin Pradel. Ancora dalla curiosità, gelatieri zoldani a Cadice. Una tradizione storica che continua ai giorni nostri. Un invito anche a visitare il sito centrostudialetaglia.it, dove troverete oltre 100 numeri della rivista bellunesi nel mondo. I primi 10 anni, dal 66 al 76, sono già online. Riflessioni linguistiche, la rubrica firma di Raffaele De Rosa, il venditore di sogni. Un articolo riflessivo sul mondo delle lingue. Spassata come sempre invece la rubrica di Gianluigi Bazzocco, come nasce il primo natante. Leggetela perché è assai interessante. Gioacchino Bratti firma sempre la rubrica Il nostro dialetto con una poesia, i modi di dire e barzellette ovviamente in dialetto bellunese. Presenti come sempre le storie dei nostri emigranti. Facciamo un tuffo in questa edizione di Bellonesi nel mondo in Brasile con la famiglia De Pellegrin e rimaniamo in Brasile. Dalle origini si parte, alle origini si torna la testimonianza raccolta da Sonia Biesuzza. Concludiamo con l'agenda delle famiglie. Carnevale romano, tutti in festa con la famiglia Piave. Ci sono anche 50 anni di amore in Brasile della famiglia di Odazir Conte. Una messa invece per le vittime del Covid-19. Una messa che è stata ordinata dalla famiglia bellunese di Saragaucia. Siamo sempre in Brasile. Come sempre terminiamo con il ricordo dei nostri soci che sono mancati e con un messaggio ovvero di donare il 5 per 1000 all'ABM e soprattutto anche ai tempi del coronavirus. Questa è la panoramica per quanto riguarda il numero di aprile di Bellonesi nel mondo che è appena stato inviato a tutti i nostri associati. Vi auguriamo quindi una buona lettura e ovviamente per chi non fosse ancora nostro socio l'invito è che diventi socio dell'Associazione Bellonesi nel mondo avrà la possibilità di ricevere tutti i mesi la rivista Bellonesi nel mondo ma con la propria quota permetterà all'ABM di poter realizzare i numerosi progetti, le numerose attività che quotidianamente porta avanti da più di mezzo secolo. Per maggiori informazioni www.bellonesinelmondo.it È davvero tutto per questa panoramica dedicata alla nostra rivista. Buona giornata e buon mese di aprile e visto il periodo restate a casa e una occasione di più per leggere Bellonesi nel mondo.